sarebbe stato divertente va bene, va bene Robert, guarda che cosa ti arriva da casa e poi un audio e poi torniamo da Mara perché questo ragazzino ciao Robert, sono la tua macchina di Formula 1 te l'ha disegnata, ti piace, ti voglio un sacco bene la tua QB sarà un bambino bellissimo polacco che si firma QB, one day bello, bello il supporto a Polonia è molto grande devo essere sincero, abbiamo toccato periodo, diciamo, di anni migliori, però io penso che anche da città